Un corteo che culminerà con uno sciopero alla richiesta all'ennesima avanzata al prefetto di Salerno di ricevere i rappresentanti del comitato Salute e Vita, impegnati da tempo in un durissimo braccio di ferro con le fonderie Pisano. Questa mattina il comitato ha annunciato un'altra mobilitazione che arriva all'indomani del blitz di procura e forze dell'ordine presso lo stabilimento di Fratte. I blitz di ieri della magistratura dell'ARPAC, ASL, Guardia di Finanza, Carabinieri eccetera eccetera dimostra ancora una volta che avevamo ragione. 20 giorni fa Pisano aveva scritto che aveva superato tutte le criticità che era a norma e poi poche ore dopo abbiamo scoperto che quella fabbrica è senza il certificato prevenzione incendio. Pertanto chiederemo il 14 maggio con un corteo e uno sciopero cittadino che partirà dalla stazione a Piazza Prefettura a Piazza Mendola chiederemo un incontro al prefetto ancora una volta il 14 maggio per chiedere che il prefetto prenda provvedimenti immediati su questa questione come previsto dalla legge.